Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione del telegiornale ITV City, in apertura come al solito l'emergenza sanitaria con i dati di Torre del Greco e Torre Annunziata, lutto per il 39enne o plontino morto per Covid. Passiamo ora alla cronaca con la maxi operazione dei carabinieri che ha sferrato un duro colpo al clan di Napoli noto come aparanza recreatura, rimosse anche edicole votive dedicate al baby boss ucciso a 19 anni. Ai nostri microfoni l'assessore di Torre del Greco, Ottaviano, fa il punto sulle panchine e le aiuole installate nell'area porto di Torre del Greco. In conclusione lo sport con la Turis che dopo la salvezza sogna i play-off con il recupero contro la Cavese. Questo ed altro nei nostri servizi. 10 nuovi casi di positività al Covid-19 registrati nella giornata ieri a Torre del Greco. Sono guariti invece 13 cittadini. Comunicato un decesso, si tratta di un cittadino di 79 anni. Sono 365 i torresi attualmente positivi, di cui 77 ospedalizzati. Il Comune ha trasmesso i dati rilasciati all'Asla Napoli 3 Sud afferenti il numero delle vaccinazioni con aggiornamento alla data del 26 aprile 2021. Nello specifico l'azienda sanitaria locale comunica e sono state somministrate 4.319 dosi ai cittadini di età superiore agli anni 80. 2.710 dosi ai cittadini di età compresa tra i 70 e i 79 anni. 436 dosi ai cittadini di età compresa tra i 60 e i 69 anni. 1.531 le dosi al personale docente e non docente. 1.399 dosi ai soggetti fragili. 2.511 dosi al personale sanitario. 108 ai caregiver. 107 alle forze dell'ordine. A Torre annunziata sono 8 i nuovi casi di contagio a Covid-19 a fronte ai 97 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'8,24%. Al contempo si registrano anche 6 guarigioni ed il decesso di un uomo di 39 anni. Quando a perdere la vita è una persona giovane il dolore diventa ancora più straziante, afferma il sindaco Vincenzo Ascione. Luca Cozzolino aveva solo 39 anni e non è riuscito a vincere la sua battaglia contro il maledetto Covid. E la vittima più giovane è la nostra città, continua il primo cittadino. L'88esima dall'inizio della pandemia, un numero pesante, un numero che fa male leggere, un numero che mi auguro con tutto me stesso non salga ulteriormente. Sono 113 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 8.999. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 2.695, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 6.304. I carabinieri del comando provinciale di Napoli infliggono un duro colpo a clan Sibillo, quello che fu definito la paranza dei bambini, 21 persone arrestate. Dalle prime luci dell'alba i militari hanno eseguito provvedimenti cautelari emessi dal GIP del Tribunale Partenopeo su richiesta della DDA nei confronti di 21 persone ritenute legate al clan Sibillo, operante nel cuore della città e reso celebre dai media come la paranza dei bambini, retto tra il 2013 e il 2015 dai fratelli Pasquale ed Emanuele Sibillo. Gli arrestati sono ritenuti gravemente indiziati dai delitti di associazione di tipo mafioso, estorsione, ricettazione, spaccio di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, detenzione e porto abusivo di armi da fuoco con le aggravanti delle finalità mafiose. Le indagini condotte dai carabinieri della compagnia Napoli Centro e coordinate dalla DDA Partenopea hanno documentato un'escalation di eventi, richieste estorsive ed esplosioni di ordini e colpi d'arma da fuoco a fini intimidatori che hanno segnato la quotidianità del centro storico nell'ambito dei contrasti sorti con l'organizzazione camorristica rivale dei Mazzarella. Una vera e propria strategia dell'attenzione, adottata dai clan per sollecitare l'intervento delle forze dell'ordine e della procura ai danni dei rivali. A farne le spese gli esercenti delle attività del centro, pizzerie ed esercizi commerciali, costretti a subire le richieste estorsive, le intimidazioni e le azioni violente. L'urna funeraria con le ceneri del baby boss Emanuele Sibillo era all'interno di un altare dedicato alla Madonna al Civico 26 di Via Santissimi, Filippo e Giacomo, nel cuore di Napoli, dove risiede la famiglia Sibillo. I carabinieri hanno anche fatto rimuovere dall'altare i simboli dedicati al baby boss, ucciso all'età di 19 anni, in un agguato scattato a ridosso del castello Capuano, in un vicolo soprannominato Vicolo della Morte, roccaforte della famiglia Buonerba, rivale dei Sibillo. Momenti di tensione subito sedati dalle forze dell'ordine si sono avuti quando uno della famiglia Sibillo si è opposto dicendo che quella era una proprietà privata. I carabinieri stanno rimuovendo anche i simboli della venerazione, disseminati lungo i decumani di Napoli dopo l'omicidio di Emanuele Sibillo. Nell'altare dedicato alla Madonna, anche un'opera raffigurante alla testa di Emanuele Sibillo, che si trova davanti all'ingresso delle abitazioni. Nei decumani sono perfettamente visibili sui muri le scritte inneggianti clan e il simbolo del baby boss ucciso ES-17. Proseguono le attività annunciate in concomitanza con la festa del mare di restyling e arredo urbano relativo alla litoranea e alla zona porto di Torre del Greco. In tale occasione la città di Torre del Greco ha presentato praticamente attraverso la manifestazione che è stata su Porto le attività che sono state poste in essere da questa amministrazione i nati con i flag grazie alle risorse a fondo perduto da parte della regione Campania. Queste risorse sono relativamente, in modo particolare riguardano proprio l'arredo urbano e l'abbellimento del porto e in tale occasione anche delle piccole attività come dei banner praticamente per la pulizia delle acque e degli specchi d'acqua del porto. Seguirà una pulizia anche dei fondali marini? Certamente, in occasione della giornata del mare avevamo avuto una richiesta da parte delle associazioni del territorio quindi l'amministrazione è stata presente attraverso una delibera dove praticamente ha posto in essere tutte le attività e le autorizzazioni per poter svolgere questo tipo di operazione ma poiché ci trovavamo in zona arancione la pulizia dei fondali non è stata consentita quindi, sempre grazie a una delibera già approvata da parte di questo comune in questo periodo seguiranno anche attività relativamente alla pulizia dei fondali in collaborazione con la Capitaneria di Porto e in collaborazione delle associazioni del territorio che ci hanno chiesto di intervenire in tal senso. Delle azioni quindi che mirano a rivalorizzare tutte le aree marittime di Torre del Greco? Sicuramente, noi ci aspettiamo, anche se per il momento sono piccole attività che sono state messe in atto anche in vista della stagione estiva e ci aspettiamo sicuramente di effettuare altre operazioni e altre attività di arredo urbano in tal senso stiamo in stretto contatto con il flag, con la regione e quindi stanno partecipando i comuni della zona litorale per chiedere che tale attività, tale azioni locali abbiano un futuro per i territori dei paesi vesuviani. Inoltre, domenica scorsa, poiché stavamo in zona arancione, le associazioni del territorio che il giorno 11 aprile, in occasione della festa del mare, si sono mosse per la pulizia delle spiagge, hanno raccolto i rifiuti, praticamente c'è stata un'operazione di smaltimento perché eravamo passati in zona arancione grazie alla collaborazione soprattutto del nostro comune e delle nostre associazioni per lo smaltimento di tutto quanto raccolto che sono stati bei sacconi che sono stati portati via e abbiamo dato insieme all'associazione, insieme ai nostri dirigenti e agli operatori una degnità alle nostre spiagge, alle spiagge libere del territorio. Neanche il tempo di festeggiare la matematica a certezza del mantenimento della categoria che subito la turist deve scendere di nuovo in campo. E' infatti in programma oggi alle 15 il recupero del match contro la Cavese rinviato per le numerose assenze dovute al Covid e il bonus sfruttato dalla società Corallina per il rinvio. La trasferta di Cava dei Tirreni ha assunto nel frattempo una valenza impensabile fino a poche settimane fa. Infatti se nel giorno in cui era in programma significava la possibilità di salvarsi, ora con i risultati favoribili degli altri campi vale per il raggiungimento dell'undicesimo posto che potrebbe significare ingresso nella griglia dei play-off promozione a patto che la Turis sia la migliore dei tre gironi di Serie C. La società ci crede e confide in un risultato positivo contro la già retrocessa Cavese e mantenere così accesa la piccola speranza di superare in classifica la Casertana con cui i Corallini hanno il vantaggio degli scontri diretti. Caneo dovrà fare ancora meno di Rainone, Signorelli e Ventola a cui si aggiunge Tascone, alto per squalifica. Tornano a disposizione Romano e Persano che quindi potranno dare una mano in più alla squadra. Fischio d'inizio allo Storio Rabberti alle ore 15. Grazie per la cortesa attenzione. Per info e segnalazioni potete contattarci alla mail redazione chiocciolatvcity.it o al numero di telefono 340 6561 484. E con questo è veramente tutto. Io vi do l'appuntamento a domani con altri servizi. Grazie a tutti.